Buongiorno a tutti, vedo che vi state collegando, buongiorno, io sono Michela Di Bitonto di Forma SPA e benvenuti a questo 35esimo webinar dedicato all'innovazione digitale. Oggi parleremo di web analytics e del progetto curato da Agid sul monitoraggio dei servizi web della pubblica amministrazione. Il webinar come sempre durerà 1 ora e 30 e oggi abbiamo con noi tre relatori, tutti dell'Agenzia per l'Italia Digitale, Claudio Celeghin, Daniela Iozzo e Davide Porrovecchio. Come sempre io mi prendo qualche minuto di tempo per dare modo a tutti di collegarsi e vi ricordo che questo ciclo di webinar dedicato all'innovazione digitale è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agide e Forma SPA, Italia Login Servizi Digitali. L'obiettivo che abbiamo in questi webinar è quello di diffondere il più possibile la conoscenza del piano etrinale o comunque del percorso di digitalizzazione che tutte le pubbliche amministrazioni devono attuare per agevolare il percorso di trasformazione digitale del paese. Oggi ci colleghiamo all'interno del piano etrinale per l'informatica nella pubblica amministrazione, questo modello strategico di evoluzione del sistema informativo della pubblica amministrazione è diventato un po' il nostro modello di riferimento per anche la progettazione di questi webinar e oggi ci colleghiamo nell'architrave di questo modello e infatti parleremo degli strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali. Abbiamo svolto diversi webinar su questi temi rifacendoci al sito di Designers Italia e in particolare sul design kit, infatti abbiamo fatto vari webinar sia sulla progettazione dei servizi digitali che sulla realizzazione e oggi ci focalizzeremo anche sulla comprensione dei servizi digitali, ovvero come vengono utilizzati dagli utenti, come possono essere analizzati i dati che ci arrivano proprio dalla reportistica dei nostri sistemi servizi web e siti web, quindi oggi ci focalizzeremo sui web analytics, quindi su tutti gli strumenti che ci consentono di osservare i comportamenti degli utenti quando usano un determinato sito web o un servizio online. I web analytics ci danno tantissime informazioni sui nostri senti, da dove si collegano, con cosa si collegano, quali pagine visualizzano e quindi oggi i nostri relatori ci aiuteranno a comprendere come possiamo utilizzare questi dati per progettare al meglio e fare anche delle operazioni di redesign dei nostri servizi o siti web per renderli più fruibili o comunque più vicini ai bisogni dei nostri utenti. Vediamo nel dettaglio il programma di oggi, parleremo dell'importanza del monitoraggio dei servizi web dell'EPA con Claudio Cellegin, proseguiremo con Daniela Iozzo che ci presenterà il kit e gli strumenti di web analytics che appunto sono pubblicati su Designers Italia, proseguiremo con Davide Porrovecchio che ci parlerà del progetto di web analytics e dello stato di avanzamento e concluderemo di nuovo con Claudio Cellegin che ci presenterà il sondaggio sulle attività di web analytics delle pubbliche amministrazioni. Vi ricordo che potete porre le domande ai nostri relatori tramite la chat, noi le selezioneremo e le porremo al termine dei loro interventi e che la registrazione e le slide che verranno condivise oggi verranno poi pubblicate sulla pagina di Eventi IPA, quindi materiali e registrazione li troverete in questa pagina, sulla pagina dell'evento. Benissimo, io direi di entrare nel vivo del programma di oggi, quindi chiederei a Claudio Cellegin di attivare la sua webcam e il suo microfono in modo appunto di avviare, di parlare e entrare nel merito del web analytics ed è il progetto che Agid sta portando avanti su questo tema. Allora Claudio ti do la parola, grazie e buon proseguimento a tutti, intanto una nota di servizio, abbiamo 226 persone collegate ma vedo che se ne stanno collegando anche altre, a te la parola Claudio, grazie. Grazie Michela, buongiorno a tutti, sono Claudio Cellegin, responsabile del servizio sviluppo web communities dell'agenzia per l'Italia digitale e oggi parleremo dell'importanza del monitoraggio dei servizi digitali e delle modalità e degli aspetti, dei progetti che Agid sta portando avanti in questo contesto. Vorrei innanzitutto chiarire che cosa possiamo intendere, che cosa intendiamo per servizi? Perché molto spesso si corre nell'equivoco di pensare che un servizio sia soltanto un complesso form da compilare, magari dopo un login, quindi moduli interattivi di particolare complessità, in realtà un servizio non è soltanto questo, non è soltanto un modulo o un form interattivo di variegata complessità, ma potrebbe anche essere semplicemente un PDF da scaricare o un documento da scaricare, ma soprattutto innanzitutto è il testo che io pubblico, è un servizio costituito soprattutto da parole, da una comunicazione verbale, quindi tutti i siti, se parliamo di siti, tutti i siti sono essenzialmente degli erogatori di servizi, dalla prima all'ultima pagina, questo vuol dire che il monitoraggio dei servizi digitali comporta un obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni e per tutti i siti che le pubbliche amministrazioni erogano. Quindi perché monitorare quindi, chiarito questo aspetto, perché monitorare i servizi digitali o i contenuti di un sito? Sostanzialmente per far sì che questi servizi siano semplici, veloci, utili, economici ed efficienti come indicato nella slide. Poche parole, ma siamo consapevoli di quanto sia complesso in realtà poi effettivamente mettere in pratica questi, raggiungere effettivamente questi obiettivi. Perché dobbiamo per capire quando effettivamente come far sì che un servizio ad esempio sia semplice, anche qui intendiamoci che cosa vuol dire per semplicità, che cosa intendiamo per semplicità, che non è sentanto mettere e pubblicare poche parole o pochi documenti o un'interfaccia scarna. Semplicità significa sostanzialmente saper gestire adeguatamente una complessità che inevitabilmente la pubblica amministrazione ha con sé e quindi se io devo fornire, erogare un servizio affinché questo sia semplice, devo capire come devo avere individuato, devo sapere quali sono le caratteristiche, devo sapere innanzitutto quali sono i servizi che devo erogare e che cosa ad esempio posso togliere dall'interfaccia, come posso presentarli. Per arrivare ad un'effettiva semplicità nell'erogazione del servizio non mi posso basare soltanto su congetture, ma devo basare queste scelte su dei dati, su degli elementi vorrei dire inconfrutabili o per lo meno oggettivi. Quindi è essenziale che ci sia una base solida nel momento in cui io semplifico un testo, semplifico un'interfaccia perché potrei magari togliere delle informazioni che sono effettivamente utili. Chiaramente questa semplificazione molto spesso significa per la redazione di un sito web implica una maggiore complessità lato interno all'amministrazione. molto spesso la pubblica amministrazione ragiona in una logica di mero adempimento, per cui io ho pubblicato un documento, ho pubblicato una pagina, ho pubblicato determinate informazioni e magari presta minore attenzione a far sì che queste informazioni siano effettivamente raggiungibili o usabili dall'utente. Quindi questa semplificazione inevitabilmente implica una maggiore complessità interna da parte della redazione che però così facendo, se ben gestita, consente all'utente di trovare le informazioni in un tempo molto inferiore. Però questa semplificazione, come dicevo prima, deve essere basata sui dati, quindi in tutte le fasi della progettazione di un servizio è necessario procedere per sottrazione o perlomeno individuando le priorità che quel servizio o ad esempio se vogliamo progettare un nuovo sito web, capire quali sono i compiti principali, le funzioni principali che quel servizio deve effettivamente erogare. Però è necessario quindi capire su che cosa, su quali elementi io posso definire una semplificazione dell'interfaccia e capire anche sulla base di dati che cosa può effettivamente essere migliorato. Quindi io devo poter individuare quali sono le principali attività che il mio utente, il cittadino sta effettivamente svolgendo sul mio sito ed è un processo assolutamente che non ha mai una fine, perché se io monitoro dal punto di vista delle statistiche per esempio il sito, posso vedere costantemente quali sono i servizi più utilizzati, dove l'utente trova maggiormente difficoltà nella fruizione delle informazioni che ho pubblicato e quindi poter individuare le attività, i task più frequentemente utilizzati dall'utente è essenziale per arrivare a derogare un servizio effettivamente utile. Questo si può fare sostanzialmente anche, non esclusivamente, ma anche tramite un sistema di web analytics. Molto spesso invece tendiamo, parlo per esperienza personale, si tende a fornire un'eccessiva scelta all'utente, mettendolo poi in una condizione di scarsa, rendendo poi il servizio scarsamente usabile. Ribadisco l'importanza delle individuazioni di queste attività principali dell'utente, perché è un lavoro molto difficile da fare e molto spesso queste attività dell'utente sono considerate magari a volte non vengono neanche considerate particolarmente prioritarie dall'organizzazione stessa. Quindi bisogna anche cambiare un po' l'approccio alla progettazione e al design, inteso come progettazione dei servizi ed è sicuramente molto complesso riuscire a individuare un ranking, una priorità dei servizi più utilizzati dal cittadino su ad esempio un sito. Quindi l'utente deve innanzitutto, parlavamo prima di utilità del servizio, non pensiamo che l'utente venga sul sito nostro o di un'amministrazione, sia esso un sito tematico o un sito istituzionale perché ovviamente non ha nient'altro di meglio da fare, evidentemente viene soprattutto sul sito di una pubblica amministrazione perché deve ottenere un servizio e poi lasciare il sito. Dico anche che molto spesso, anche qui abbiamo un'esperienza personale in Agid, ma insomma è una cosa ricorrente in molte amministrazioni, non solo amministrazioni, ma anche in ambito privato, molto spesso ciò che l'amministrazione o il decisore ritiene che sia molto importante, in realtà per l'utente non lo è affatto. Quindi magari l'utente viene perché ha bisogno di un servizio informativo e invece noi su una determinata tematica invece gli forniamo informazioni, strumenti che non sono effettivamente rispondenti alle sue necessità e questo è molto frequente, non sempre, ma è molto frequente, sia in ambito privato che in ambito pubblico. Ad esempio noi quando abbiamo recentemente rifatto anche il sito dell'agenzia che come tutti i siti è sicuramente perfezionabile, ma abbiamo raccolto, abbiamo anche noi constatato nella raccolta dei dati che gli utenti erano molto interessati a tematiche che non erano in quel momento, non erano per Agid, erano ormai argomenti assolutamente consolidati, ad esempio la firma digitale o la posta elettronica certificata e invece in quel momento Agid magari stava lanciando e stava proponendo altre tematiche. Quindi è importante invece, e questo lo si evince dagli analytics, capire quali sono le reali esigenze dell'utente e quindi di conseguenza progettare un servizio che sia effettivamente utile. mi permetto anche di fare un esempio abbastanza puntuale, ce ne sono tanti, se ne potrebbero fare tanti di esempi sulla mancanza di verifica dell'effettivo utilizzo dei servizi da parte dell'utente, voglio dire molto spesso il carousel in home page, il carousel per capirci è quella sequenza di immagini che molto spesso vengono utilizzate per le news, che viene spesso usato nei siti della pubblica amministrazione, ma è caratterizzato inevitabilmente da una scarsa usabilità, molto spesso non è neanche accessibile perché forse non ho nemmeno del testo alternativo e perché la cartina torna sole è ciò che ci fa capire che quella comunicazione, quell'erogazione di quel servizio non è in realtà human centred, non è in realtà centrata sull'utente, sulle esigenze dell'utente, ma è centrata su una comunicazione quasi monodirezionale della pubblica amministrazione. Altro elemento particolarmente importante è la velocità con cui si erogano i servizi e le informazioni, siamo in un'epoca in cui la connessione ai siti, ai servizi è sempre più basata su mobile e posso incorrere in una scarsa connessione del mio device e quindi devo per forza di cose caricare poche immagini sulla pagina, il testo essenziale che serve all'utente per poter arrivare al servizio e soprattutto anche una procedura magari semplificata, questo chiaramente potrebbe richiedere una reingegnerizzazione e semplificazione dei processi interni all'amministrazione, ma questo è un altro capitolo. Di sicuro il concetto di risparmio di tempo da parte dell'utente che si collega al mio sito è un elemento sempre e sempre più importante. Altro elemento infine nella economia della produzione dei servizi è la riduzione dei costi, chiaramente l'amministrazione non può, non può, come dire, non guadagna nella regolazione dei servizi, però io posso sicuramente ridurre i costi di erogazione del servizio, posso incrementare l'utilizzo di servizi self service in cui il cittadino si collega, fa tutto in autonomia e poi se ne va dal sito o dall'applicazione. La riduzione dei costi comporta inevitabilmente anche il coinvolgimento di tutta l'organizzazione, coinvolgere tutta l'organizzazione significa essenzialmente poter condividere i dati con i decisori, quindi l'elemento di condivisione dei dati statistici di un'amministrazione di un sito è un momento molto importante perché chi eroga un servizio, un'informazione, un documento deve sapere quale feedback riceve o come l'utente utilizza questa informazione e quindi ad esempio noi in Agile condividiamo con tutti i redattori, con tutte le persone e con i decisori una serie di report interni che hanno a che fare con le statistiche, che hanno a che fare con dei content audit, delle analisi dei contenuti che facciamo, sull'accessibilità dei contenuti e devo dire che sono strumenti utili per far capire che ad esempio quella notizia oppure quel box messo in home page a cui tanto tiene un determinato decisore in effetti non viene visto da nessuno o è pochissimo fruito, mentre un'informazione apparentemente messa in secondo piano viene visitata da migliaia di utenti. Questo significa a sua volta che le decisioni vengono basate sui dati, su dati statistici forniti dall'utente che naviga sul sito e non sono soltanto decisioni che si basano su opinioni o su congetture o sul gusto personale di codecisori perché includiamo tutte le persone che definiscono poi oggetto, contenuti e modalità di proposizione dei servizi e dei contenuti e quindi il fatto di basarle su dati e non su opinioni è un elemento molto importante che ci consentono di individuare le attività più ricorrenti dell'utente che molto spesso sono le meno visibili al cittadino e avere un'evidenza di queste attività che si basano sulla misurazione sui dati e uno degli strumenti sicuramente utili a questo scopo è uno strumento di web analytics. Con questo passo la parola a Michela per un approfondimento dopo successivo sulle attività che Agid sta svolgendo nell'ambito di web analytics. Grazie Claudio per la tua presentazione, in chat per il momento sono arrivate delle domande che chiedono più che altro come si può progettare bene un home page e questo non è proprio sull'argomento di oggi, però può servire magari parlare delle linee guida di design, accennare velocemente o ai modelli dei siti web dei comuni che Agid e Team Digitale hanno progettato, non so se vuoi dire qualcosa su questo Claudio? Sì, dunque brevemente due parole, come progettare, avere esempi di home page della Piave infatti, adesso sotto mano così non ci siamo, non ho sotto mano, però sicuramente esiste una metodologia che viene adeguatamente descritta su designers.italia.it che comprende molti elementi di ascolto sostanzialmente dell'utente, di valutazione e di gerarchizzazione dei servizi, quindi ci sono degli strumenti molto validi per poter individuare un esempio, una home page. diciamo che in genere bisogna fare molta attenzione a che cosa si mette in home page, ma in realtà anche se c'è da dire che l'home page di un sito, adesso però non mi voglio dilungare se no rubo tempo ai colleghi, l'home page del sito in realtà se c'è un'attività corretta di analisi dei requisiti degli utenti, viene quasi un po' da sé, nel senso che deriva da tutta una serie di misurazioni effettuate, per cui ho individuato l'info architettura, le tipologie di contenuti, una serie di altri elementi che poi mi portano a indicare appunto un'ipotesi di home page. Comunque ripeto, ne approfitto per comunicarvi che abbiamo da poco lanciato anche, abbiamo terminato lo UI kit che sicuramente è utile per la composizione di tutte le pagine di un sito e non soltanto dell'home page. Non voglio rubare altro tempo con i colleghi. Direi di andare avanti, anche perché abbiamo fatto anche altri webinar su questo tema, quindi chiedo ai nostri partecipanti di andare a vedere la lista, magari adesso inserisco il link sulla chat in modo che possano andare a vedere i precedenti webinar che abbiamo svolto su questo tema. Allora a questo punto direi di dare la parola a Daniela Iozzo, sempre dell'Agenzia per l'Agenzia per l'Italia Digitale, per proteggere la parola a Daniela Iozzo e mi occupo in Agid di web marketing, in particolare di web analytics e di SEO. Sono la persona che ha curato insieme a tutto il team di sviluppo, la redazione delle linee guida di design dedicate a questi temi, in particolare al tema web analytics che è oggetto del webinar odierno. Vorrei aprire l'intervento cercando perlomeno di fare un po' di chiarezza su ciò che significa web analytics e di che tipo di attività si tratta, perché purtroppo è una disciplina ancora poco conosciuta dal mondo della pubblica amministrazione e quindi vedremo un attimino durante questo webinar di approfondire la questione. Allora per web analytics si intende un'attività che consente di misurare, quindi di collezionare e di misurare i dati di comportamento web degli utenti su un sito, su un'applicazione mobile, su un servizio. La web analytics è molto utile come attività di analisi, non soltanto per l'ottimizzazione di un sito web al livello di usabilità e di fruibilità del sito stesso, ma è utile anche, questo soprattutto avviene nel contesto delle aziende private a fini di business e di market, quindi per migliorare l'efficacia di un sito web laddove si cerca di vendere un prodotto o di aumentare l'efficacia di un servizio. La web analytics è un'attività che può essere condotta in maniera gratuita o in maniera pay a seconda della piattaforma che viene utilizzata. Il mercato della web analytics è piuttosto ampio, in questa slide trovate i loghi di alcune fra le principali piattaforme di analytics presenti sul mercato, alcune sono open source, altre non lo sono. In ogni caso il panorama è davvero variegato, e spazia da soluzioni di tipo free a soluzioni di tipo freemium a soluzioni di tipo enterprise che sono strettamente a pagamento, strettamente dedicate a grandi aziende o a grandi moli di dati. Fondamentalmente sappiamo che le quote di mercato maggiori rispettivamente sul closed source, quindi sul codice proprietario e sull'open source, spettano allo straconosciuto Google Analytics e Amatomo XP Week, che ha cambiato nome negli scorsi mesi, che è la piattaforma di web analytics con codice aperto più utilizzata in assoluto. Che cosa si può fare con la web analytics? Con la web analytics si possono fare tantissime cose e soprattutto si può rispondere a tantissime domande relative al comportamento degli utenti su un ambiente digitale. Alcune di queste domande sono delle domande di tipo basico, diciamo, che riguardano semplicemente il flusso di traffico e il flusso di accesso delle persone a un determinato sito, quindi quanti utenti visitano il sito, quanto tempo ci stanno sopra, quali sono le principali località geografiche da cui provengono italiane e estere e anche a livello granulare, proprio a livello di città o di comuni. Queste domande impattano anche dal punto di vista contenutistico del sito, quindi quali sono i contenuti più visitati in un determinato intervallo, qual è la stagionalità del traffico del sito durante i mesi dell'anno, fino a spaziare e fino a delle analisi più approfondite che riguardano proprio aspetti, quali le ricerche degli utenti e quindi attraverso quali ricerche Google gli utenti arrivano al nostro sito, oppure ancora quali sono le query, quindi le ricerche maggiormente utilizzate all'interno del motore interno del sito se è presente. Non dimentichiamo inoltre che la Web Analytics consente di rispondere a domande che riguardano l'efficacia tecnologica del sito, una fra tutte la velocità di caricamento ad esempio delle pagine, oppure ancora se il sito è sufficientemente mobile first da essere facilmente fruito da un dispositivo mobile e qual è questa quota di persone che provengono da un dispositivo mobile, sia esso un cellulare, un tablet, eccetera. Poi arriviamo ancora a delle analisi più approfondite che sono delle analisi che sono sito specifiche, quindi quanti utenti sul totale riescono a completare un servizio, quanti riescono a scaricare un determinato documento e via discorrendo. Quindi questi sono soltanto alcuni degli esempi che potremmo fare rispetto alla profondità di analisi cui si può arrivare con la Web Analytics. Abbiamo fondamentalmente due tipi di indicatori di performance, degli indicatori di performance del sito che sono basici, che la maggior parte, per non dire tutte le piattaforme di Web Analytics citate e non citate sopra ci restituiscono, sono degli indicatori di performance che la piattaforma traccia in automatico e quindi ci offrono una vista degli utenti del sito, del loro comportamento su aspetti appunto come i contenuti, le tecnologie, il flusso di visitatori, la provenienza geografica e così via. Poi c'è un aspetto diciamo così meno esplorato, soprattutto meno esplorato nel mondo della pubblica amministrazione che sono gli indicatori di performance custom, perché spesso quello che si tende a fare, perlomeno nel mondo della pubblica amministrazione, è dedicarsi al setup della piattaforma e lasciare che la piattaforma faccia la collection dei dati come è giusto che faccia e restituisca semplicemente gli indicatori basici che non sono appunto sito specifici ma ci forniscono diciamo così una fotografia generale di alcuni indicatori ma non ci consentono di andare ancora più in profondità magari negli obiettivi di business che dobbiamo raggiungere attraverso il sito preso in considerazione, ad esempio che non ci consentono di capire quanto un servizio viene utilizzato rispetto al totale degli utenti, se e dove ci sono dei colli di bottiglia nella fruizione di quel servizio e come si può fare per risolverli. Queste sono delle risposte che possono essere, diciamo così, si possono ottenere istruendo le piattaforme di web analytics a tracciare anche degli indicatori di performance che siano custom, che siano personalizzati e che quindi sono degli attributi qualitativi o quantitativi che variano al variare del sito o dell'applicazione che si vuole prendere in considerazione e che poi diventano variabili attraverso cui è possibile approfondire i report, ad esempio qui ho fatto un esempio che penso possa essere comprensibile a tutti quanti, è riferito purtroppo a un sito di e-commerce perché è una cosa comunque con la quale tutti abbiamo a che fare, per esempio alcuni indicatori custom potrebbero essere il tipo di prodotto, il colore del prodotto, una taglia e quindi l'indicazione di queste variabili customizzate ci consentirebbe di capire quanti utenti ad esempio provenienti da traffico social hanno messo nel carrello degli acquisti il prodotto X o il prodotto Y in un determinato lasso di tempo. Ci sono tutta una serie inoltre di features, di funzionalità delle piattaforme di web analytics che vengono purtroppo sottoutilizzate nel mondo PA, una di queste è la segmentazione. segmentare il traffico web significa semplicemente isolare una parte del traffico che ha delle caratteristiche comuni, degli attributi comuni in termini qualitativi o quantitativi, qui nella slide su cui siamo in questo momento vediamo per esempio alcuni esempi di segmenti che potrebbero essere gli utenti che visitano il sito da dispositivo mobile oppure che provengono da una ricerca sui motori di ricerca oppure da smartphone o da tablet, gli utenti che hanno effettuato un download sul sito, quindi questa funzionalità, anche questa è una funzionalità comune a tutte le piattaforme, ci consente di esplorare il traffico web in maniera granulare e profonda. Poi abbiamo ancora delle funzionalità avanzate come l'analisi dei funnel che quindi ci consente di esplorare come dicevo anche all'inizio quello che succede andando avanti nel viaggio dell'utente verso il completamento di un obiettivo dove completare un obiettivo in web analytics potrebbe essere la fruizione di un servizio, il download di un documento, di una brochure, la compilazione di un form e via discorrendo. Poi abbiamo delle funzionalità che si chiamano in page che consentono di vedere attraverso delle mappe di calore in quali zone di una determinata pagina, ad esempio qui abbiamo un home page di un sito istituzionale, quali zone dell'home page sono più o meno cliccate di altre, quindi quali eventualmente hanno dei problemi. La stessa cosa può avvenire attraverso una funzionalità che si chiama heatmaps che invece ci consente con lo stesso sistema di vedere i click, i moves e gli scroll, quindi quello che l'utente effettivamente fa sulla pagina web in termini di click del mouse, di movimento, di scroll della pagina. E poi qui c'è una funzionalità ancora più avanzata che è la form analysis, cioè l'analisi di quello che succede quando gli utenti utilizzano un form e compilano un form. Quindi come da esempio che è tratto da Hotjar, mentre per rispondere una domanda che vedo in chat, alcuni esempi precedenti sono tratti da Google Analytics, altri da Matomo e questo invece da Hotjar che è una piattaforma non strettamente di web analytics, ma che però consente alcune funzioni avanzate di questo tipo. Quindi questa analisi ci consente di vedere dove c'è un drop down della visita, quindi dove l'utente tende ad abbandonare il form perché magari c'è qualche problema con un field, non riesce a compilarlo, non riesce ad andare avanti o perché magari la struttura è poco chiara. Poi abbiamo, sempre parlando di feature avanzate, la tecnica degli esperimenti. La tecnica degli esperimenti è detta anche A-B testing, che è una tecnica che consente di condurre degli esperimenti controllati basati su due varianti di uno stesso elemento su un sito. Che cosa vuol dire? Che io praticamente divido il traffico in due campioni di utenti, ognuno dei quali vede una versione diversa di una pagina piuttosto che dell'etichetta di un pulsante e di molto altro ancora che si può testare. E la variante che ha più successo poi viene implementata. Abbiamo approfonditamente parlato di A-B testing in un caso di studio di user experience che abbiamo raccontato su Medium, che vi ho linkato in questa slide. Quindi siccome è un argomento abbastanza complesso e anche molto interessante secondo me da approfondire, vi ho lasciato nella presentazione il link al caso studio in questione. Tra l'altro è stato condotto con una, grazie Michela, che è stato condotto proprio con una PA italiana. Queste e altre informazioni sono raccolte all'interno della linea guida di Web Analytics di Designers Italia, che ha l'obiettivo appunto di fare un po' di chiarezza su tutto l'argomento e appunto di contribuire ad aumentare la cultura sulla Web Analytics nel mondo della pubblica amministrazione proprio perché è un'attività dalla quale potremmo trarre moltissimi vantaggi e i cittadini potrebbero trarre moltissimi vantaggi indirettamente perché se riuscissimo a progettare sempre e comunque dei siti web, come diceva anche Claudio in apertura del webinar, che siano le cui modifiche e le cui ottimizzazioni progressive in maniera anche evolutiva siano data driven, sicuramente anche i cittadini avrebbero dei vantaggi dal punto di vista della fruibilità e dell'efficacia dei servizi. Accanto alle linee guida abbiamo collocato e associato alla linea guida un kit operativo, il kit appunto di Web Analytics di Designers Italia. Adesso nelle slide rimanenti vi racconterò quello che contiene questo kit e perché diciamo così può essere un buon approccio iniziale per iniziare a osservare i comportamenti degli utenti e per approcciare le due piattaforme di Web Analytics più utilizzate che vi citavo all'inizio. Il kit Web Analytics di Designers Italia lo potete scaricare dalla sezione kit del sito Web Designers Italia, all'obiettivo diciamo così, al di là della teoria che è contenuta nelle linee guida, di fornire delle indicazioni operative. Intanto su come avvicinarsi a una cosa che anche qui nel mondo PA rispetto alla Web Analytics viene sotto utilizzata ma che invece è molto efficace che è il dashboarding, ovvero la reportistica della Web Analytics. Perché la reportistica? Perché il dashboarding e la possibilità di generare dei report sono in realtà una risorsa molto importante per condividere i dati sia all'interno del team di lavoro e sia con altri stakeholder o comunque con le persone che poi devono prendere le decisioni rispetto a che cosa implementare o cosa non implementare. Quindi all'interno di questo kit cerchiamo di spiegare come produrre e distribuire dei report basici di Web Analytics all'interno dei quali sono già configurati degli indicatori di performance basici e diamo indicazioni su come importarli e crearli grazie alle due piattaforme Google Analytics e Matomo. Qui nelle slide successive ho cercato, non so se la visualizzazione mi viene incontro, di farvi vedere qual è l'output finale di queste dashboard custom. Per quanto riguarda Google Analytics abbiamo preparato una configurazione, quindi una dashboard custom dedicata al mondo PA che è stata pubblicata all'interno della Google Analytics Solution Gallery che è praticamente una galleria di configurazione a disposizione di chiunque abbia Google Analytics, quindi chiunque può praticamente downloadare una configurazione che non è altro che è una scatola vuota con un insieme di regole dentro che poi praticamente viene riempita con i dati del sito di riferimento. Quindi ciascuno scarica la stessa configurazione e poi se la ritrova all'interno del proprio Google Analytics con i dati del proprio sito. Quindi questo è un output fra tutti. Poi sempre all'interno del kit abbiamo inserito anche un sample di dashboard customizzata creata invece con gli stessi indicatori di qui sopra con un altro tool che però si chiama Google Data Studio che è un tool leggermente più sofisticato non tanto per le modalità di utilizzo quanto per la resa grafica che offre. Quindi comunque è dedicato a chi ha già una certa esperienza insomma con il dashboarding, con la preparazione di widget eccetera eccetera. La stessa cosa abbiamo provato a suggerirvi rispetto a Matomo che è la piattaforma di web analytics più utilizzata, lato open source e dove anche qui abbiamo delle alte possibilità di customizzazione, abbiamo inoltre la possibilità di generare dei report periodici, di inviarli via mail, il che appunto rende molto più semplice e dinamico diciamo così la condivisione di questi dati relativi al sito con altri esponenti del team di lavoro oppure con altri stakeholder del sito. Abbiamo inoltre inserito delle indicazioni rispetto alla segmentazione che è una delle features che ho descritto all'inizio del mio intervento e quindi indicazioni operative su come generare con entrambe le piattaforme dei segmenti di utenza, quindi dei sotto insieme di visite che condividono variabili qualitative o quantitative comuni quindi, perché ovviamente si tende anche in questo caso di solito a condividere i dati rispetto al traffico aggregato, dimenticando che in realtà nonostante il traffico aggregato sia quello più rappresentato nei report, è diciamo quello meno rappresentativo dal punto di vista dei singoli gruppi di utenze, che quindi è bene, di solito sarebbe bene generare dei report specifici per singolo gruppo di utenza. Il kit, anche qui vi ho lasciato il link a Designers Italia, è possibile downloadarlo, importarlo e provare a utilizzarlo all'interno o all'interno della propria piattaforma. Benissimo Daniela, grazie mille per la chiarezza con cui hai esposto questi temi. Allora sono arrivate varie domande ma mi sembra che poi nel frattempo hai risposto con la tua presentazione, quindi l'unica appunto chiedono quanto costa installare web analytics, anche se hai parlato molto anche di web source. Allora in realtà appunto dipende, può essere un'attività che si fa in maniera totalmente gratuita e può essere anche un'attività invece che prevede un investimento economico appunto, ma Tomo in quanto piattaforma open source è totalmente gratis, gratis è anche Google Analytics nella sua versione free. Ovviamente quando notoriamente si sceglie l'una o l'altra piattaforma, è bene diciamo così magari informarsi un pochino, fare qualche comparazione su quali sono le specifiche dell'una o dell'altra in modo da poter scegliere quella che è più si avvicina agli obiettivi del sito, anche agli obiettivi dell'amministrazione insomma. Ok, poi Mary Bellandi chiede se c'è un open source per analizzare i dati di in page. Allora sì, considerate che Matomo per esempio funziona così, allora è una piattaforma open source che fornisce gratuitamente il core, cioè il nucleo primario di ciò che consente di analizzare il sito, poi accanto a questo nucleo primario che è gratuito c'è un marketplace di plugin a pagamento, fra cui ci sono anche dei plugin dedicati alle funzionalità più avanzate che abbiamo visto qui, quindi ad esempio i dati in page, le heat maps, la form analysis, credo che anche questo tipo di funzionalità siano piano piano, siano state sviluppate diciamo nei mesi che sono appena trascorsi. So che è stato appena sviluppato un tag manager, per esempio nel caso di Matomo che consente in sostanza di occuparsi del setup e anche della personalizzazione dello script della piattaforma senza l'intervento di uno sviluppatore. Quindi ecco consiglio di approfondire l'argomento leggendo intanto la documentazione che c'è a disposizione sulle linee guida, ma anche sul sito ufficiale di Matomo che è matomo.org. Benissimo, va bene Daniela grazie, grazie mille, appunto alcuni dicono che comunque è difficile utilizzare questi strumenti, ma sicuramente questi tool che avete messo a disposizione aiuteranno e poi gli approfondimenti, insomma sicuramente gli ERP possono essere trovati anche sui siti di riferimento. Allora io direi di proseguire con Davide Porrovecchio, quindi grazie Daniela magari ci rivediamo al termine del webinar, quindi proseguiamo con Davide Porrovecchio a cui chiedo di attivare la webcam e il microfono, eccoci Davide. Benissimo, allora proseguiamo con la tua presentazione, grazie Davide. Grazie Michela, ok allora entriamo adesso nel vivo di quello che è il progetto portato avanti da Agid che si chiama Web Analytics Italia, questo progetto è il proseguimento di un'esperienza precedente che è stata fatta proprio a proposito di Web Analytics con alcune pubbliche amministrazioni che adesso diventa qualcosa di più ampio perché si rivolgerà a tutte le pubbliche amministrazioni. Lo stato di avanzamento di questo progetto è diciamo più o meno quello della fase di progettazione iniziale dell'infrastruttura che ospiterà la piattaforma che appunto si chiamerà Web Analytics Italia. A proposito di questo volevo provare a entrare insieme a voi un po' in alcuni dettagli tecnici sul funzionamento di di una piattaforma di Web Analytics e poi anche su quelli che sono gli step che saranno richiesti alle pubbliche amministrazioni per partecipare proprio a Web Analytics Italia e quindi poter monitorare i propri siti web, i propri servizi web digitali utilizzando tutte le funzionalità che prima di me ha descritto Daniela. Quindi entriamo un po' nel merito di come funziona. Proverò a restare su un livello non troppo complesso e non troppo tecnico però è importante riuscire proprio a comprendere quali sono le meccaniche che rendono possibile il tracciamento dei dati delle visite degli utenti sui siti web. Il processo di tracking coinvolge principalmente tre elementi, tre attori e sono l'utente, il cittadino che è il centro della nostra attenzione che visita il sito web, poi c'è il sito web dell'APA che qui dal punto di vista tecnico intendiamo come il complesso delle pagine web, del codice che genera quello che poi l'utente vede nel browser e poi abbiamo un'istanza che si occupa di fare la raccolta, l'ingestion dei dati rispetto alle visite che nel nostro caso è Web Analytics Italia. Quindi la descrizione è abbastanza semplice perché quando un utente richiede il sito ha un server di una pubblica amministrazione, questo server invia le pagine HTML al browser dell'utente e insieme a queste pagine web invia anche del codice che viene eseguito dentro il browser dell'utente e che si occupa proprio a partire dal browser dell'utente quindi conoscendo tutte quelle che sono le caratteristiche anche locali, quindi se il browser è su dispositivo mobile oppure su desktop, qual è la risoluzione dello schermo, quale pagina si sta visitando e raccolti tutti questi dati vengono inviati per essere processati poi dall'istanza di Web Analytics Italia che Agid metterà a disposizione delle pubbliche amministrazioni e che si occuperà proprio di raccogliere tutti questi dati. La domanda che sorge a questo punto è come fanno i funzionari della pubblica amministrazione poi a visualizzare i dati che sono stati raccolti attraverso questo portale? La risposta è semplice perché questo portale di Web Analytics Italia non avrà solo una componente per la raccolta dei dati ma poi potrà anche presentarli alle pubbliche amministrazioni che questi dati vogliono visualizzare. Certamente la consultazione di questi dati non sarà pubblica ma sarà necessario autenticarsi con Speed in questo portale quindi solo i funzionari delle pubbliche amministrazioni potranno accedere e visualizzare questi dati. In ogni caso non saranno mai memorizzati perché non sono oggetto di interesse specifico per il tipo di analisi che interessano alla pubblica amministrazione i dati personali degli utenti quindi non saranno identificabili i singoli utenti attraverso questo processo di raccolta dei dati. È possibile utilizzare i dati raccolti da Web Analytics Italia, da questa piattaforma, anche da servizi esterni. Questo può essere particolarmente interessante per quelle pubbliche amministrazioni che magari hanno un impianto di raccolta e analisi dei dati abbastanza complesso e vorrebbero integrare questa sorgente dati relativa alle visite effettuate dai cittadini presso i propri siti con altre sorgenti dati per poter effettuare delle elaborazioni interne. Ciascuna PA potrà quindi ovviamente attraverso delle credenziali di accesso specifiche accedere in maniera automatizzata e quindi non attraverso un frontend ma attraverso delle API che sono dei punti di accesso per dialoghi e scambi di dati tra macchine potranno accedere e quindi poter tirar fuori tutti questi dati che si possono utilizzare per successive elaborazioni. È anche possibile, questa è un po' una risposta ad alcune delle perplessità che leggevo prima nella chat relative alla difficoltà di interpretazione dei dati, sarà possibile leggere anche in modo sintetico questi dati. La piattaforma di Web Analytics Italia si occuperà anche, oltre che di fornire con le dashboard più complesse approfondite, di sintetizzare, di creare dei report di sintesi che saranno inviati, quindi questa volta in modalità push, non saranno i funzionari a doverli richiedere ma arriveranno direttamente via mail, questi report sintetici che daranno un'idea ovviamente a intervalli temporali regolari, daranno un'idea di quelle che sono le principali metriche relative alle visite sul proposito, le metriche e le dimensioni ovviamente. Questo tipo di strumento, cioè il report inviato periodicamente, è anche utile se vogliamo immaginare, come diceva all'inizio Claudio, di avviare all'interno della pubblica amministrazione dei processi decisionali data driven, perché il report è un elemento facilmente condivisibile con i colleghi e quindi a partire da questi documenti si può effettivamente avviare un processo che metta al centro delle decisioni i dati e non più le esigenze della pubblica amministrazione. Adesso passerei al come partecipo, cioè come faranno nel momento in cui questa piattaforma sarà disponibile le pubbliche amministrazioni ad entrare, insomma quindi ad iscrivere il loro sito istituzionale dentro Web Analytics Italia e poi a gestire tutte le funzionalità messe a disposizione dal portale. La parte più importante sarà quella del primo accesso, perché è quello che permetterà di creare un'associazione tra un'utenza speed, quindi tra un'identità certificata e una pubblica amministrazione di appartenenza. Il modello che abbiamo deciso di adottare, che poi vedremo alla fine del mio intervento in modo sintetico, provando a dare una visione di insieme di tutto questo processo di onboarding, il modello che abbiamo deciso di adottare è lo stesso, la stessa logica di Google Analytics, quindi si basa su un concetto di fiducia nei confronti dell'utente, in particolare per Web Analytics Italia questo è ancora più facile, perché l'utente si identifica con speed, quindi si sta in qualche modo esponendo con la sua identità personale. Dopo questo primo accesso con speed, l'utente potrà selezionare la propria pubblica amministrazione di appartenenza e questa verrà associata all'utente restando però in uno stato sospeso, per cui questa associazione tra utenza speed e pubblica amministrazione dovrà poi essere convalidata e confermata. A quel punto il sito principale della pubblica amministrazione verrà automaticamente selezionato per essere iscritto, automaticamente perché è possibile per noi riuscire a ricavare questo dato dall'indice PA, che per noi è una fonte fidata, quindi la prima iscrizione passa obbligatoriamente per l'inserimento del sito principale della pubblica amministrazione. A questo punto verrà rilasciato all'utente il codice per il tracciamento che dovrà essere inserito proprio nel sito principale dell'amministrazione. Questo è un punto cruciale perché effettivamente la possibilità per quell'utente che ha effettivamente effettuato accesso con speed di inserire il codice che è stato rilasciato all'interno del sito principale della pubblica amministrazione alla quale ha dichiarato di appartenere, ci dà una certificazione del fatto che proprio quella persona ha i permessi di modificare il codice sorgente del sito. Questo per noi è sufficiente per convalidare l'associazione tra l'utente che ha fatto accesso e la pubblica amministrazione da lui selezionata. Ovviamente questo processo ha un tempo per cui dopo il rilascio del codice di tracking, se questo non viene inserito nel sito e il sito non inizia a generare dei dati che vengono inviati al portale web analytics, allora c'è un momento in cui dopo una scadenza l'associazione tra quell'utente speed e la pubblica amministrazione viene sciolta, per cui tutto il processo che era stato iniziato decade e non va avanti, per cui per ricominciarlo bisogna esattamente riprendere il primo passo. Cosa succede dopo questa convalida? Succede che l'utente iniziale che aveva richiesto di essere associato alla pubblica amministrazione diventa l'amministratore di web analytics, cioè l'amministratore per la sua pubblica amministrazione dentro il portale web analytics italia. Che cosa potrà fare questo amministratore? Ha dei permessi particolari? quello che può fare è aggiungere altri utenti e quindi ampliare la partecipazione di altre persone della sua pubblica amministrazione a web analytics italia oppure aggiungere anche altri siti. Questo è un po' un punto importante perché risponde mi sembra ad alcune domande che erano state poste e segnala che se è necessario per certificare il processo di onboarding che si è aggiunto per primo il sito principale della pubblica amministrazione è vero che poi dopo che l'onboarding è stato certificato si potranno aggiungere sotto la personale responsabilità di chi effettua l'accesso cospid anche altri siti. Questo è particolarmente interessante perché sappiamo che tante pubbliche amministrazioni non hanno solo il sito principale ma anche tanti siti tematici, siti secondari che è interessante riuscire a tracciare anche in una logica di tracciamento interdominio, quindi quella caratteristica dei web analytics e quella funzionalità che permette di tracciare le visite di un cittadino anche tra siti diversi della stessa pubblica amministrazione. Rispetto all'aggiunta di altri utenti specifico che gli altri utenti che sono aggiunti avranno dei ruoli specifici, sono attualmente previsti ma questo è ancora oggetto di riflessione da parte nostra, sono previsti tre ruoli, quindi con dei set di permessi associati, il ruolo che vi ho già presentato è quello dell'amministratore che ha il permesso di aggiungere altri siti e altri utenti, poi ci sarà un ruolo di gestore che potrà essere associato anche a specifici siti web della pubblica amministrazione se ne ha più di uno all'amministrazione in questione e che avrà la possibilità di impostare dentro lo specifico della piattaforma di analytics che permetterà anche di rientrare in questo tipo di dettagli e di specificare anche caratteristiche di tracciamento più specifiche come impostazioni di eventi o di goal, potrà personalizzare le dashboard, potrà creare dei funnel, insomma andare in tutte quelle metriche custom e potrà definirle così come raccontava prima Daniela. E invece l'ultimo ruolo previsto è quello del lettore, semplicemente che è un utente della pubblica amministrazione che potrà avere accesso in sola lettura a tutti i dati analytics che ovviamente la pubblica amministrazione sta raccogliendo e anche in questo caso potranno essere limitati a un sottinsieme di tutti i siti che ciascuna pubblica amministrazione sta tracciando. Provo adesso a fare un po' una panoramica di quello che vi ho raccontato a proposito del processo di onboarding, perché capisco che è abbastanza complesso ed è fatto di tanti passaggi, quindi forse una visione di insieme più sintetica rispetto a come l'ho raccontata adesso può aiutare nella comprensione. Dunque partendo dall'accesso con speed, subito dopo l'utente ha la possibilità di selezionare un'APA che è quella sua di appartenenza e viene stabilita un'associazione in uno stato da confermare, uno stato pending tra l'utente che ha fatto accesso e l'APA. Immediatamente dopo viene rilasciato il codice per il tracciamento riferito al sito principale dell'APA selezionata e quindi quello linkato su indice PA e a seguire ci spostiamo al di fuori della piattaforma Web Analytics Italia perché siamo nel dominio del sito dell'amministrazione. Il passaggio successivo è quello quindi dell'inserimento di questo codice di tracking dentro il sito della pubblica amministrazione selezionata. Nel momento in cui questo codice inserito inizia a produrre dei dati che vengono inviati, quindi rientriamo dentro la piattaforma Web Analytics Italia, dei dati che vengono inviati rispetto al tracciamento, allora abbiamo una convalida dell'utente e l'associazione tra PA e utente viene confermata. Se invece oltre alla scadenza i dati sul tracciamento non vengono ricevuti, allora si ha una rimozione dell'associazione tra l'utente e l'APA che era stata selezionata e quindi si può ricominciare eventualmente da capo. Su questo chiaramente capisco che è un po' difficile seguire perché i passaggi sono tanti, però per ulteriori dettagli siamo sicuramente, come poi vi dirò a disposizione anche per chiedere il vostro aiuto e il vostro coinvolgimento. Ultima domanda è come fare delle prove. Abbiamo parlato di un primo inserimento del sito principale della pubblica amministrazione di appartenenza, quindi è comprensibile che una pubblica amministrazione voglia fare delle prove prima di coinvolgere direttamente il proprio sito principale. Per questo metteremo a disposizione un'istanza pubblica di test per effettuare tutto questo processo di cui vi ho raccontato e che sarà libera e nella quale ovviamente il processo di associazione tra utente e APA sarà semplificato, sarà anche velocizzato perché questa piattaforma di test sarà resettata poi a intervalli periodici, quindi non faranno fede i dati raccolti, non saranno conservati e resi disponibili. Questo ovviamente darà la possibilità a ciascuna amministrazione di fare prima delle prove su dei siti secondari. Un ultimo punto di cui volevo parlarvi è relativo alle notifiche, perché in tutto questo processo di onboarding, ma sarà attivo anche successivamente dopo la certificazione dell'associazione tra utente e pubblica amministrazione, ci sarà in piedi un sistema di notifiche che ovviamente saranno anche personalizzabili, che renderanno consapevole di tutti i passaggi che sono effettuati su Web Analytics Italia, mi riferisco ad esempio all'aggiunta di un nuovo sito, oppure degli eventi che magari sono rilevati direttamente dal portale, come un blackout nel tracciamento delle visite. Questi saranno resi ovviamente disponibili queste informazioni attraverso delle notifiche mail che verranno inviate sia all'utente che ha fatto accesso con Speed ed eventualmente anche agli altri utenti che sono stati aggiunti, ma per conoscenza istituzionale anche al recapito del responsabile per la transizione al digitale. Recapito che le pubbliche amministrazioni inseriscono sempre su Indice PA che è la nostra fonte dati fidata principale. Certamente ci sarà la possibilità per la pubblica amministrazione di intervenire anche istituzionalmente rispetto a quello che succede, quindi anche se il responsabile ad esempio per la transizione al digitale non è la stessa persona che ha accesso a Web Analytics Italia, potrà comunque interagire e richiedere informazioni, spiegazioni o modifiche attraverso un sistema di ERP, desk o di ticketing, quindi si potrà comunque interagire anche su quel versante. Rispetto al mio intervento mi fermo, ripasso la parola a Michela per sapere se nel frattempo sono state raccolte delle domande. Sì, Davide, grazie per l'interessante intervento. Una domanda è se questo sistema può convivere con Google Analytics. Sì, la risposta è sì, diciamo in generale la risposta è che più codici di tracciamento possono essere contemporaneamente attivi sullo stesso sito. Aggiungo anche che strumenti come Matomo, che anticipo in questa risposta un po' un elemento che è in fase di progettazione, probabilmente cos'era il motore che alimenterà Web Analytics Italia. Quindi strumenti come Matomo supportano anche un multitracking, quindi con un singolo codice di tracciamento si potranno inviare dati sulla navigazione anche a diverse istanze di Matomo. In ogni caso Matomo può convivere con Google Analytics all'interno dello stesso sito o anche con altri strumenti come Hotjar. Benissimo, grazie. Allora, poi un'altra domanda è quando sarà tutto funzionante? Allora, prevediamo di aprire una beta, quindi diciamo una versione chiusa per le pubbliche amministrazioni che lo richiederanno a metà circa del 2019. Contiamo di completare nel corso del 2019 questa beta, quindi di aprire totalmente al pubblico di tutte le pubbliche amministrazioni in questo progetto all'inizio del 2020. Chiaramente queste sono delle stime, quindi prendetele con le pinze, però queste sono le nostre intenzioni e diciamo la nostra roadmap. Benissimo, e poi un'ultima domanda era l'inserimento del codice nel sito dove avviene? Chiedeva Paola Aronica. Allora, l'inserimento del codice di tracciamento nel sito dove avviene dipende, diciamo, molto dal sito. Molti CMS danno la possibilità di, diciamo, inserire del codice che sarà, per entrare un po' nel merito del codice JavaScript, quindi del codice eseguibile dal browser, dicevo, tanti CMS danno la possibilità di inserire questo codice direttamente dall'interfaccia grafica. Un'alternativa per, diciamo, chi conosce più dal di dentro il funzionamento del web è quella proprio di accedere al codice che genera le pagine web del proprio sito, che sia esso un sito statico, un sito dinamico, ecco c'è sempre, dal punto di vista tecnico, un punto dove poter inserire questo codice. Va benissimo, grazie, poi i dettagli arriveranno, penso, nel corso del tempo. Allora, io direi di proseguire, visto che siamo già alle 13.17 con l'ultimo intervento di Claudio Celegin, quindi Claudio se puoi ringrazio nel frattempo Davide ovviamente per la sua presentazione. Ok Claudio, a te la parola per il tuo intervento finale, grazie. Sì, allora, vediamo, aspetta che passo avanti, eccolo qua. Allora, qui c'è un passaggio molto importante che vogliamo condividere con voi e che vogliamo condividere con voi alla alla fine di questa presentazione. Volevo anche, però, prima di arrivare alle conclusioni finali, indicare che questo strumento di Web Analytics, come giustamente indicava anche Michela all'inizio, chiaramente si contestualizza all'interno di un framework, di una cornice abbastanza complessa, fatta di elementi normativi, di elementi che possono generare effettivamente un cambiamento. Che cosa intendo? Noi stiamo lavorando su molti fronti. È chiaro che lo strumento di Web Analytics è uno degli strumenti per un cambiamento, vorrei dire, culturale, per arrivare a una cultura del monitoraggio e dell'evoluzione costante dei servizi, ma c'è un contesto anche molto più complesso che Agile sta gestendo insieme anche al team digitale, per portare avanti molti elementi che costituiscono un impianto di trasformazione digitale. Abbiamo una community di circa 3.000 utenti, abbiamo costruito una community all'interno della quale ci sono numerose tematiche che riguardano l'attuazione del piano triannale, abbiamo costruito un network di pubbliche amministrazioni, tra cui amministrazioni centrali, regioni, città metropolitane, comuni, scuole, con le quali Agile ha attivato un'attività di accompagnamento all'attuazione del piano triannale e poi come organizzazioni governative Agile e Team Digitale contribuiscono alla progettazione e all'erogazione di dispositivi normativi, vedi il piano triannale, vedi anche la diffusione di regolamenti e di direttive europee, le linee guida come da articolo 71 del CAD, da intendersi con un significato un pochino più cogente rispetto alle linee guida in generale, i kit e anche le piattaforme di cui un esempio è quello di questa web analytics che stiamo progettando e che vi ha descritto dettagliatamente Davide. Quindi in tutto questo contesto lo strumento di web analytics si pone sostanzialmente e metaforicamente un po' come un ponte che collega il cittadino e le amministrazioni che collega anche gli inevitabili silos che sono onnipresenti o comunque molto spesso vincolanti all'interno dell'amministrazione. Perché è un ponte? Perché per quel concetto di condivisione dei dati con i decisori, questo elemento di condivisione è veramente molto importante e consente proprio di, tra l'altro un altro elemento che costituirà web analytics Italia e anche la possibilità di condividere i dati delle pubbliche amministrazioni con il pubblico. Poi daremo altri dettagli di progettazione comunque nelle opportune sedi tramite articoli eccetera, però comunque l'elemento di condivisione e quindi di condivisione delle informazioni è veramente molto importante per noi, perché è importante capire che i cambiamenti e le evoluzioni di un servizio devono essere basate sostanzialmente su dei dati i più oggettivi possibili. Vorrei citare anche a fianco agli strumenti di web analytics, anche un elemento complementare che però mi piace, ritengo molto importante citare perché recentemente o comunque nell'ultimo anno abbiamo pubblicato su designers il protocollo EGLU per la usabilità dei siti e sono due strumenti complementari appunto come dicevo, perché io posso effettivamente monitorare da una parte che cosa sta facendo dell'utente, dare una base oggettiva di come il cittadino utilizza il mio sito, condivido i dati e poi tramite dei test di usabilità posso anche individuare delle possibili opzioni di soluzione e sicuramente appunto web analytics e protocollo EGLU sono sostanzialmente le due facce della stessa medaglia. Sono due facce delle stesse medaglie, sono strumenti che possono effettivamente condurre a un cambiamento anche auspicabile e necessario vorrei dire all'interno della pubblica amministrazione. Gli strumenti di analytics chiaramente non sono sufficienti, sono indispensabili per innescare questo processo di ascolto del cittadino, costituiscono una spinta alla continua evoluzione e paradossalmente però vorrei dire che sono anche uno strumento scomodo e cosa intendo? Intendo che è uno strumento che ci costringe a uscire da una situazione di comfort in cui ho pubblicato il mio sito, ho pubblicato il mio servizio, ho fatto quello che dovevo fare e poi sostanzialmente non dico che mi disinteresso, però penso di aver raggiunto uno status, uno stato ideale di erogazione del servizio, invece analizzando i dati e capendo cosa i dati mi stanno comunicando, io posso effettivamente continuare verso una continua, verso un'evoluzione delle informazioni e dei servizi che sto erogando. È vero che le pubbliche amministrazioni molto spesso hanno un budget ridotto, però ci approfitto per dire anche che, perché questo è un discorso che molto spesso è ricorrente, per cui ho pubblicato un sito, dopodiché non posso più, non ho strumenti per farlo evolvere. Attenzione che molto spesso una redazione può fare moltissimo tramite CMS a livello proprio redazionale dei testi per poter far evolvere il sito. Quindi l'obiettivo finale di questo progetto sostanzialmente è, come accennavano prima anche i miei colleghi, è quello di creare effettivamente una cultura del monitoraggio che comporta, che è indispensabile, ma che comporta un discorso, se vogliamo, che comporta un cambiamento attuabile, attuabile non certo in poco tempo, però che da qualche parte deve iniziare. Per, come dicevamo prima, per individuare i servizi più importanti, per attuare effettivamente un cambiamento è indispensabile una coprogettazione dei servizi e dei siti. Ripeto, per servizi semplici, utili e veloci è necessario una condivisione con una coprogettazione, un co-design, come si direbbe, dei progetti che si stanno disegnando. Questo vale sia per i servizi che la pubblica amministrazione sta pubblicando, ma anche in questo caso per Agid, in quanto sta effettivamente progettando questa piattaforma, siamo nella fase di disegno e di progettazione architetturale applicativa della piattaforma, però è estremamente utile per noi, proprio perché vogliamo fornire un servizio effettivamente sempre più utile, sempre più semplice da usare, è necessario per noi anche avere da parte vostra, da parte delle amministrazioni, un feedback su quello che loro ritengono essere gli elementi più importanti che una piattaforma di analytics deve avere. Chiaramente noi ne abbiamo già individuate alcune, anzi molte, però vogliamo creare qualche cosa che venga incontro non solo ai bisogni delle amministrazioni, ma anche a quelle che sono le problematiche più importanti delle amministrazioni. Quindi abbiamo predisposto un form online, un sondaggio, una survey che dir si voglia, con la quale noi vogliamo raccogliere il più possibile indicazioni da parte delle pubbliche amministrazioni per capire in primis quali sono i problemi che l'amministrazione incontra nel momento in cui deve attivare un processo di monitoraggio dei propri servizi. Noi abbiamo fatto tramite value proposition design, tramite degli strumenti di progettazione, abbiamo fatto delle ipotesi che ci sembrano abbastanza verosimili, però è evidente che non possiamo fornire alle amministrazioni noi stessi un servizio, Web Analytics Italia, che non sia effettivamente calato poi su quelle che sono le effettive esigenze del cittadino. Quindi abbiamo predisposto questo form, sono poche domande a scelta multipla, non ho adesso un print screen, ma probabilmente vi siete già collegati, sarà per noi estremamente utile ricevere il maggior numero possibile di feedback da parte vostra per poter proprio, vorrei dire plasmare questa piattaforma in base alle vostre esigenze e vi saremo certamente grati se vorrete darci le vostre indicazioni su questo progetto e vi coinvolgeremo comunque anche nel prosieguo dello sviluppo, magari non tutti i 200 o quanti sono partecipanti, ma insomma sicuramente coinvolgeremo le pubbliche amministrazioni nello sviluppo di questa applicazione. Vi ringrazio per l'ascolto e cedo la parola a Michela. Benissimo, grazie Claudio. Allora chiedo anche a Daniela Iozzo e Davide Porrovecchio se vogliono riattivare appunto microfono e webcam, magari per rispondere alle ultime domande che sono arrivate. Abbiamo poco tempo, sono già le 13.31, quindi non so se brevemente volete rispondere a qualche domanda che è rimasta e ne vada. Allora inizio io, brevemente volevo rispondere alla domanda di Paolo Urbini rispetto all'attività di analisi sulle app per smartphone, assolutamente sì, lo stesso tipo di analisi che abbiamo descritto per i siti web può essere effettuata sulle applicazioni mobili, secondo presso a poco gli stessi principi, con la differenza diciamo così più generale che l'analisi per le app è quasi totalmente customizzata, cioè deve essere appunto, la piattaforma di Web Analytics deve essere istruita presso che in toto rispetto a quello che l'applicazione deve fare, quello che devono fare gli utenti all'interno dell'applicazione. In ogni caso proveremo anche nel progetto di Web Analytics Italia a lavorare per mettere a disposizione una funzionalità del genere, quindi non solo dedicata ai siti desktop tradizionali, ma anche alle applicazioni mobili. Grazie Daniele e Davide. Rispondo io telegraficamente ad altre due domande e chiede Stefano Mazza perché bisogna utilizzare la propria utenza personale Speed per adempere ad obblighi lavorativi. La risposta è semplice per lo stesso motivo per cui quando si firma un documento al lavoro si usa la propria firma personale, per cui serve semplicemente a identificare la persona, non è quella Speed un'utenza relativa a soli scopi privati, anzi nasce per lo più per identificarsi nei confronti della pubblica amministrazione. Se viene captata, dice, la propria identità digitale e metteremo ovviamente in piedi tutti i migliori sistemi di sicurezza, faremo tutte le valutazioni relative a tutti i possibili casi di criticità in termini di sicurezza che ci saranno, quindi si può stare tranquilli su questo. Altra domanda, rispondo velocemente, i dati raccolti chiede Maurizio Firmani nella piattaforma Web Analytics per quanto saranno conservati? Dunque distinguiamo due tipologie di dati, ci sono i dati grezzi che sono quelli che arrivano direttamente dal browser dell'utente e che saranno conservati per un arco di tempo abbastanza breve che dovremo ancora decidere nel dettaglio ma non andrà oltre qualche mese, poi questi dati grezzi a intervalli temporari irregolari vengono consolidati dentro archivi di dati aggregati e gli archivi dati aggregati saranno conservati in modo, non dico perpetuo, ma certamente molto a lungo termine. Se chiaramente poi le amministrazioni singole hanno delle particolari esigenze rispetto a questo è chiaro che ci sarà la possibilità anche di fornire un'estrazione dei dati relativi a quell'amministrazione che potranno poi essere conservati nel modo più, nel modo preferito dell'amministrazione nel modo più utile. Benissimo, grazie, allora direi a questo punto di chiudere, appunto colgo l'occasione per augurare a tutti buone feste, buon anno e ci rivedremo il prossimo anno con nuovi webinar, ringrazio i nostri relatori di oggi veramente per la qualità dei vostri interventi e anche i nostri partecipanti che ci hanno seguito fino all'ora di pranzo, quindi ancora auguri a tutti, grazie e ci vediamo il prossimo anno con nuovi webinar, buona giornata a tutti. Grazie a tutti, grazie, auguri.